Good morning, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7 e 0 8, martedì 8 ottobre e siamo qui su Cristal Radio con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno, come state, come andate, dove andate soprattutto, cosa farete oggi? Pioggia, 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 allarme arancione della protezione civile. Ieri è arrivata la solita telefonata, ieri pomeriggio, ero in macchina, è arrivata la protezione civile, la protezione civile di Milano, Lombardia, acqua, pioggia, più a niente in realtà, però per fortuna arriva anche la mail ed è tutto chiaro. Quindi, attenzione, e mi piace che c'è tutto, no, ti dice di stare attenti e tutto, però poi ti dice, se avete le macchine nei posteri sotterranei, tiratele via. Può sapere che è successo qualcosa a fama agosto che non vorremmo si ripetesse, può essere per quello. È sempre interessante vedere come gli avvisi vengono aggiornati in base alle disgrazie che vengono successe la volta prima, no, cioè non ci si riesce a pensare prima. Comunque state attenti, lontani dai fiumi, lontani dai corsi d'acqua, chi di voi sta viaggiando a fianco al naviglio, ecco, perché poi lontano, lontano, ma poi le strade le fanno lì, non è che possono andare in mezzo ai campi, no? Vabbè, comunque, diteci dove andate, 331-78-535-555, il nostro numero di WhatsApp. Mi raccomando, siamo qui fino alle 9 per condividere con voi la mattinata, per passarla insieme, abbiamo un po' di notizie da leggere, poi abbiamo i nostri ospiti. Insomma, mattinata pregna di, sapete che di solito dico il menu della mattinata, ecco, oggi vedrete che la parola menu è quella corretta e quella giusta da utilizzare. Pensateci, gente, pensateci, anzi, think, think about it, no, think. Rita Franklin con Think, 7 e 13 minuti, sempre qui, Christian Radio, Good Morning Milano, veramente attenzione a tutta l'acqua che sta venendo giù. Adesso poi vi leggo anche l'allerta arancione che è arrivata via mail dalla Protezione Civile, vi ricordo sempre di scrivervi, anzi, al sistema di allerta della Protezione Civile che è molto, molto utile. Ma prima, grazie ad Alberto che ci manda un WhatsApp, buongiorno Fabio, buongiorno ragazzi in redazione, a tutti i cristallini, oggi di Luvia avremo problemi a girare per Milano. Beh, credo di sì, questa volta non serve, mi sa, non serve la palla di cristallo per capire, la sfera di cristallo per capire che sarà veramente una giornata difficile. E mi corregge giustamente per dire, attenzione, il garage allagato è quello di Romolo, non di Famagosta, è vero, sì, mi ricordavo che era il Capolina della Verde, che poi non è neanche più il Capolina della Verde, perché per me il Capolina della Verde è Romolo, cioè quelle dopo non esistono nel mio immaginario, perché quando ero bambino andavo a Romolo, al Capolina della Verde, è perché c'era un grandissimo negozio di giocattoli, e quindi mi ricordo questa cosa, che la collegavo a questa cosa qui. Però invece no, adesso va giù fino ad Assago, e invece giustamente infatti il grande parcheggio è invece quello di Famagosta. E vi dicevo che appunto bisogna stare attenti a questa cosa, dell'acqua, del sostare vicino ai corsi d'acqua, e l'allerta però fa anche, a me fa, sarò cinico io, non lo so, però mi fa un po' sorridere, perché dico, vabbè però, che consigli, sembrate quelli che dite di non uscire nelle ore calde durante la giornata. La Protezione Civile del Comune di Milano informa che l'autorità regionale competente ha diramato un'allerta gialla, a rischio idrologico e rischio idraulico, fino alle 6 di questa mattina, con successivo passaggio ad Arancione, dalle 6 di questa mattina fino a prossimo aggiornamento, sulla zona del nodo idraulico di Milano. Attività di prevenzione, vediamo se le fate anche voi insieme a me. Allora, mantieniti, mi piace che è tutto, no, tutto molto, l'autorità, udite, udite, sudditi, e poi mantieniti, cioè non mantenersi, mantieniti, va bene. Mantieniti aggiornato sull'evoluzione delle condizioni meteo, va bene, guarderò fuori dalla finestra o mi scarico l'app, comunque. Proteggi i locali che si trovano al piano stradale, va bene, ok, fin qua ci sono. Il terzo punto, e poi non ci ne sono più di prevenzione, è quello che mi piace, metti al sicuro l'automobile, così, cioè la zia, la cognata, il suocero, la suocera, i figli, chi se ne frega, ma mi raccomando, metti al sicuro l'automobile, va bene. Vi fa capire in che società viviamo? Ma perché questo? Perché fa il paio con quella cosa lì del posteggio che è finito sott'acqua. Attività di autoprotezione in caso di criticità, ok? Evita i locali posti sotto il livello stradale, vabbè, ci sta. Evita gli spostamenti esterni se non per esigenze inderogabili. E qui già bisogna capire, ma qui è come il buon senso, i congiunti durante il Covid, cioè esigenze inderogabili, mi è finita la Nutella, voglio andarla a comprare. Per alcuni è inderogabile, ecco la roba lì. Evita le zone allagabili in caso di spostamenti esterni strettamente necessari, quindi simile a quello sopra. Evita ponti e sottopassi, va bene. Non sostare nelle zone circostanti agli alberi dei corsi d'acqua e stai lontano dagli argini. Ecco, questo qua ad esempio, se io sto sulla Vigevanese, di che ve ne vado dall'altra lì al Bategrasso, no? Cioè, come faccio a stare lontano? E lì, avete fatto una strada sopra il fiume praticamente, sopra il Naviglio. Quindi, vabbè, grazie per la protezione civile. Nonostante queste strane indicazioni, poi ti ripeto, io sono forse un po' troppo cinico, ma iscrivetevi proprio, perché ovviamente allerta.protezionecivile è un sistema molto, molto importante. Funziona molto bene. Meglio davvero leggere e farsi una risata sul Metti al sicuro l'automobile, che poi una risata. Quelli che hanno la macchina sotto a Famagosta, non credo che si siano fatti una gran risata quando l'hanno vista lì. Quindi, insomma, meglio farsi una risata qua, leggendo comunque gli avvisi così, piuttosto che poi dopo piangere una volta che arrivano le disgrazie. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo ancora qui su Crystal Radio. Good morning, Milano! Sì, abbracciatevi, abbracciatevi in questo momento. Questa qui è quella canzone lì, no? Che devi metterti di fianco al tuo compagno di scuola, di fianco a quello con cui hai fatto il viaggio, no? Ti ricordi quel viaggio quando avevi 18 anni che siete andati in Grecia con 5.000 lire nel portafoglio e poi avete mangiato scattolette di tonno per tutto il mese, no? Quello lì, ecco, ecco lì. Li abbracci e incominciate a piangere, ricordandovi quando eravate giovani, quando eravate giovani, ti ricordi quella volta a Monaco di Baviera? Ecco, quella roba lì, ecco, è così, no? E quella canzone lì, c'è poco da fare, è così. Quindi un abbraccio virtuale ai miei amici con cui non sono andato in Grecia, perché non sono andato in Grecia, ma con cui... No, ho fatto alcuni viaggi appunto anch'io, quindi un abbraccio grande. E l'ascolteremo un giorno guardando dall'alto la città, dicendo, pensa, un giorno tutto questo era nostro e adesso invece siamo dei vecchi, no? No, però insomma è così. Sì, quindi la dedico a chi è stato giovane e rimarrà giovane per sempre, a chi invece è giovane adesso e lo sarà per sempre, anzi, godetevi quei momenti perché sono davvero fondamentali, ma, attenzione, vi do una notizia, ne vivrete altrettanti anche dopo. Io vi do questa notizia. Non è vero che i migliori anni sono quelli, è una bufala, è una grandissima bugia. Guardate, e ve lo dico anche da uno, insomma, io all'età di 44 anni sto vivendo i migliori anni della mia vita, ok? Nonostante ho mal di schiena un giorno sì, un giorno no, nonostante mi è lasciatica, nonostante ho dovuto mettere da due mesi a questa parte gli occhiali progressivi, ok? Va bene. Ma ci sono anche delle gioie invece. Una di queste, ad esempio, è parlare tutti i giorni alla radio con voi. Quindi, fatemi in compagnia, 331-78-53-555. Quando avete capito di essere Forever Young? E io ne conosco, perché ne conosco. Ragazzi, questa radio qua, cioè adesso, piccolo angolo, spot su Crystal Radio, cioè questa radio qua è stata fondata 40 anni fa da dei younger, ma young veramente, cioè altro che young signorino. Che fila ha fatto, Beatrice, young signorino? Te lo ricordi? Eh, che fila ha fatto? Non sappiamo più che fila ha fatto young signorino. Cerchiamolo. Facciamo un appello a chi l'ha visto per sapere che fila ha fatto young signorino. Comunque, dicevo, 40 anni fa, dei giovani baldi hanno fondato questa radio, dei giovanissimi, dei pischelli, di quelli che li guardavi, quelli che molto probabilmente salivi sull'autobus, sul tram, no? Salivi lì sul 2, credo fosse, che passava da quelle parti. Salivi sul 2, li vedevi seduti e tu ti sedevi dall'altra parte, perché ti facevano anche un po' paura. Cioè, c'è anche se sti caveunchi, no? Con il chiodo alcuni, un po' così, no? Bene. Adesso questi ventenni che hanno smesso il chiodo, ma ce l'hanno sotto ancora, sotto la pelle, che hanno tagliato i capelli, che hanno tagliato le barbe lunghe, beh, ma li guardate e dite, guarda che carini, no? Guarda qui, ciao nonno. Mi sentono, mi ammazzano. Questa qui. Mi fanno un mazzo, però mi vedono, che non vi dico. Però no, sono delle persone ormai inserite nella nostra società tranquillamente, ma che nell'animo hanno quella roba lì. E nonostante, appunto, l'apparenza siano dei signori ormai, questo possiamo dirlo, no? Ecco, dei signori, a tutti gli effetti, inseriti appunto nel contesto sociale, beh, dentro, Forever Young, fanno la radio, mettono le canzoni a radio, raccontano Milano dalla radio, la continuano dopo 40 anni a fomentare e ad alimentare, nonostante quanto sia difficile tenere una radio in piedi, nel senso che io quando ho scoperto certe cose ho detto, vabbè ragazzi io parlo al microfono, il resto pensateci voi. No, davvero, quindi Forever Young, cioè il concetto dei migliori anni è una bufala immensa, nel senso che sicuramente sono belli perché eravamo giovani, spensierati e non dovevamo pagare le bollette, ma dopo arriva il bello, dopo arriva il bello, dopo arriva il bello, nel senso che arriva sempre più tardi, sempre dopo arriva, nel senso che oggi c'è del bello e dopo domani arriverà dell'altro bello, quindi davvero non credete a quella grande bufala dei migliori anni, tutte quelle robe lì, no, Forever 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 Young, questa è la vera verità, come la vera verità è che andiamo con un po' di musica, dopo un po' di musica ci saranno due o tre consigli per gli acquisti, poi un'altra canzone e torniamo qua ancora in diretta su Crystal Radio con la puntata di oggi di Good Morning Milano. E voi l'avete trovato al vostro centro di gravità permanente che poi cosa sia non si è mai capito, vorrei chiedere un attimino al Franco, ma ormai glielo chiederò quando andrò anch'io là dove adesso lui, va bene, ci faremo così. Comunque, Franco Mattiato, centro di gravità permanente, so che ve la siete cantati, infatti qualcuno mi ha scritto al 33178-535-555 Stamattina si canta! Ebbè, è quello che cerchiamo di fare noi tutte le mattine, grazie mille ad Adriana per il suo Whatsapp, grazie anche ad Alberto che appunto dice quando passi i 55 ti rendi conto, mi piace che gli ha detto no, sono dei 66, e lui è 55 giustamente, quando passi i 55 ti rendi conto che gli anni avanzano, sempre giovani, è vero ciò che dice, ma prima appunto raccontavo del fatto che comunque alla fine i migliori anni della nostra vita sono quelli che stiamo vivendo in quell'istante, altro che tutta quella nostalgia per i tempi andati, insomma, è quello il bello di vivere il momento e è il bello anche di sfruttare anche la maturità che uno ha in quel momento. 7.35 minuti, alle 8 e qualcosa poi arriveranno i nostri ospiti, quindi poi ne parliamo bene, parleremo di poesia, poi vi spiego, parleremo di cibo, parleremo, insomma, cibo e poesia insieme, sì, ecco, quindi pensate voi di cosa parleremo, ma prima, allora abbiamo parlato del maltempo, parliamo anche di come svara la situazione sui mezzi pubblici, vi ricordo che la M2 la sera, dopo le 21, verrà chiusa tra le fermate di centrale e Piola, cioè ferma a centrale e poi riparte da Piola, ok? Lavori di manutenzione da oggi fino al 20 dicembre, cioè da ieri mattina, anzi in realtà da ieri pomeriggio, cioè da ieri sera, scusate, da ieri sera fino al 20 dicembre, via libera, poi anche al prolungamento fino a V-mercate, questo è nei sogni di qualcuno, comunque due mesi e mezzo di disagi, leggo da Corriere della Sera a Milano, per i passeggeri della linea verde da ieri sera appunto fino al 20 dicembre, tutte le sere a partire dalle 21, la M2 chiuderà tra centrale e Piola nelle due direzioni, quindi chiuse le affermate di Cagliazzo e Loreto, quelle lì, sono le due affermate che sono dentro, ci sono percorsi alternativi, si può prendere la 90-91, ci sono anche altri autos che potete prendere, tutte le indicazioni su cosa prendere, come prenderli e quando, sul sito di ATM, ormai c'è tutto lì, siamo a Loreto, siamo a Cagliazzo, ecco, non lo sentirete per un po', va bene? Dopodiché, io sapete, sono contrarissimo a questo nuovo disco che dice siamo a, non mi piace per niente, lo trovo fuori luogo, c'era così bello, Loreto, fermata Loreto, c'era così, non era bello, oh, perentore, molto ferroviario, invece no, siamo a, siamo a, magari siamo a, vai comunque, sito ATM sono tutte indicazioni che potete comprendere e capire, e oltretutto, questo sabato, si apre la M4, quindi, date un occhio anche a quello che cambierà sui mezzi di superficie, non solo per il giorno di sabato, dove ci saranno delle chiusure parziali, dei cambi di direzione del Cuniatus, perché ci sono varie manifestazioni, in varie situazioni, tra San Cristoforo e tutta la linea, fino praticamente a, a Linate, più o meno, nel senso, giusto no, finissima San Babi, le altre fermate, in teoria, non dovrebbero fare niente, o meno che festeggiano anche lì, non lo so, però vabbè, comunque, segneri, California, vuole e tutto, cioè, quindi lì ci saranno un po' di problemi nel pomeriggio, quindi va bene, ma non allarmatevi più di tanto, invece, date un occhio alle altre linee che sono state modificate, proprio per l'apertura e l'arrivo della M4. Nei giorni scorsi, leggiamo sui giornali, che poco era cambiato, in realtà, poi, nei giorni a seguire, si è notato che, insomma, non sono così pochi i cambiamenti, non sono così poche le differenze, ma soprattutto, c'è quel tema lì, nel senso che, magari, è anche più razionale quello che è stato fatto adesso, non è stato, non è facile farlo passare e, in più, continuo a dire, ma non potete aspettare qualche settimana, qualche mese, così meno uno si abitola alla metropolitana e poi cambia linea, no? Governo Punk, Punker Punk, Governo Punk, Governo Banker, no? Bunker 44, oh, è di Sanremo sta canzone, ma ricordate? Cioè, sembra, sembra sei mesi fa, no? Sembra sei secoli fa, sembra in realtà, invece, era solo febbraio, invece, sembra veramente sei secoli fa, sembrano passate, i reglaciali, e invece, era a febbraio di quest'anno, vabbè, comunque, e stiamo già lì pronti, trepidanti, perché saremo a 2025, cioè un attimo, quando io, finito, già si è quello dopo, comunque, allertamento, ve la ricordo, fino a nuova indicazione, allertamento di arancione, sul nodo idraulico di Milano, Protezione Civile ha diramato questo allertamento, appunto, dalle 6 di questa mattina, fino a nuova comunicazione, fuori effettivamente, sta venendo giù, tanta tanta acqua, dopo controlleremo, magari più tardi, anche i livelli di Seveso e Lambo, per capire, quanto si stanno alzando, a che velocità si stanno alzando, che la situazione sia grave, lo testimonia anche quello che è successo, appunto, qualche settimana fa, con ancora le auto, sott'acqua, nel pasteggio di Famagosta, ma, anche nelle altre città, nelle altre città, lombarde, ad esempio, leggevo da Corriere da Sera, che Bergamo, per l'alerta meteo, oggi scuole superiori della città chiuse, e anche l'università è chiusa a Bergamo città, nelle valli, molti sindaci chiudono anche l'elementare e le medie, quindi, insomma, è successo un bel disastro anche a Bergamo, nelle settimane scorse, quindi, la situazione è veramente grave, e tutto questo, con ancora qualcuno che osa dire che il cambiamento climatico non è un problema, va beh, insomma, staremo a vedere, ma il problema grosso è che, effettivamente, il cambiamento climatico, forse, non è il problema da risolvere all'istante, forse si potrebbe risolvere più facilmente il fatto che cementifichiamo ovunque e creiamo, praticamente, dei laghi, dei bacini, dei fiumi per il tobogano, avete presente quello che si faceva a Gardland, quella roba lì, praticamente, le nostre città sono diventate qualcosa del genere, e qualcosa del genere che, ogni volta, per ogni stagione, ha problemi, perché quando c'è l'estate, e fa caldo, fa troppo caldo, perché è il cemento, perché è il microclima, l'effetto canyoning, che viene fatto nelle grandi città, come ad esempio Milano, quando viene l'acqua, c'è l'effetto, appunto, toboga, come lo chiamo io, che sembra di stare al parco acquatico, perché diventano, praticamente, degli scivoli d'acqua, le nostre strade, che, per fortuna, ad esempio, in una città come Milano, sono abbastanza piatte, ma ci sono poi sottopassi, ma ci sono poi le cantine, ma ci sono poi i garage sotterranei, quindi, insomma, ci sono le metropolitane, che poi avete visto, le cascate d'acqua, che c'erano, ad esempio, a Missori, settimana scorsa, insomma, il tema, sicuramente, non è di facile approccio, da livello locale, a livello locale, su quello che riguarda l'ambiente, diciamo, sul riscaldamento globale, e, diciamo, quella mitigazione lì, ma, sicuramente, si potrebbe fare tanto, invece, per quanto riguarda la cementificazione, magari, non buttando giù stadi, costruendone altri, così è, ad esempio, ad esempio. Perché parlo di stadio? Perché si parla ancora dell'inchiesta sulle curve, ed è intervenuto, e voglio andare a leggere il pezzo, Rosario Pantaleo, che è il presidente della commissione consigliare antimafia, che risponde, appunto, alle accuse rivolte dai PM, sull'inchiesta sulle curve di Inter e Milan. Era stato un po' così detto, che la commissione aveva sottovalutato il tema, e lui, giustamente dice, non sono fesso, non c'è stata alcuna sottovalutazione della vicenda oltra, anzi, dice, noi non abbiamo mai sottovalutato nulla, perché altrimenti, non avremmo fatto la commissione. Questa cosa l'avevo detta anch'io, leggendo l'articolo, dicevo, magari hanno sottovalutato, però il fatto che l'abbiano fatta vuol dire che qualche sentore c'era, dopodiché vorrei capire anche cosa può fare la commissione, attenzione, questa è la commissione consigliare antimafia, cioè la commissione del consiglio comunale, cioè non è la commissione antimafia, che viene da chissà, no, è fatta da consigliari comunali, che avranno le loro competenze, il consigliere Pantaleo ha grandissime competenze, ma non so quanto abbiano poi azione, più di tanto poi non credo che possano fare, se non appunto ascoltare e magari poi parlare con gli inquirenti, quindi credo che in questo momento poi siano fondamentali, avere a disposizione invece una commissione consigliare come questa. Su Repubblica Milano comunque c'è tutta l'intervista al consigliere Pantaleo, che ha detto che se l'hanno fatta questa commissione qualche motivo ci sarà, quindi andate a leggerlo su Repubblica Milano, inchiesta curva di consigliere P.D. Pantaleo dice non sono fesso, non c'è stata alcuna sottovalutazione nella vicenda ultra. Un po' di musica e poi torniamo ancora qui, perché ce n'è ancora tanto da dire, ah se ce n'è tanto da dire, tantissimo! Cesare Cremonini, ora che non ho più tè, alle 7 e 51 minuti, scusate, ora che non ho più tè, non è che ha finito il tè, farsi il tè caldo, che anche se questa mattina servirebbe, non ha più me, quindi ora che non ho più tè, ok, ho sbagliato, la dizione giusta, come giustamente Laura ogni tanto mi fa notare, quindi la saluto, grazie Laura che ogni tanto mi fa notare che la dizione è giusta e bisogna utilizzarla correttamente. Mi arrivano notizie da varie zone della città, per cui è già il delirio più assoluto, ve lo dico, allora, autostrada bloccata quasi completamente, da Varese, in Milano arriverete chissà quando, ve lo dico già. Poi, altra cosa, zona ovest, tra Baggio, Cusare, come si chiama, Corsico, Bucinasco, Cesano, quella zona lì, Lampioni tutti spenti, quindi si viaggia al buio, e si viaggia con la strumentale direi, cioè come fate il volo strumentale dei MIG, dovete fare così, quindi attenzione davvero, se volete fare lo smart working, supplicateli di fare lo smart working quest'oggi, perché è davvero complicata la situation, oppure, io un consiglio che vi do, posso dire, si può dire, no, fregatevene, fregatevene, e entrate in ritardo al lavoro, cioè fate così, dite, guardate, io arrivo perché arrivo, però arrivo un'ora dopo, fate così, questo punto, cioè dite, guardate, qui è tutto allagato, arrivo, quindi non uscite neanche di casa, non vi mettete nel casino, aspettate un'ora, un'oretta e mezza, e poi andate, fate così che fate prima, l'alternativa è che non vengo al lavoro, cioè, c'è sempre questa, la minaccia può essere sempre questa, volendo, comunque, in redazione siamo tutti, mi raccomando, perché non può arrivare nessun in ritardo oggi, ok, grazie, ok, perfetto, comunque, invece, una bella notizia, ricordate, ieri abbiamo parlato di questo, medico del San Raffaele, che era scomparso, stato ritrovato, Davide Piccinali, il medico del San Raffaele, scomparso da giorni, era in un hotel, di Vicenza, quindi, meglio così per lui, il fratello Dario l'ha ritrovato, siamo già insieme, tutto a posto, sta bene, non si è capito bene le cause di questo, che sembra a tutti gli effetti, quindi un allontanamento volontario, state allo, se vi interessa, siete così morbosi, da voler sapere perché è andato a Vicenza, il caro Davide Piccinali, cercatevi nei prossimi giorni, le notizie, che tanto sicuramente, verranno fuori, va bene? Noi adesso ci fermiamo un attimo, c'è il giornale radio, c'è un po' di musica, c'è il Cristal History, e poi torniamo qua, perché arrivano anche i nostri ospiti, della mattinata, grazie a tutti, a fra poco, andiamo con un po' di musica, e poi giornale radio, ciao ciao, a fra poco. Catherine Underwaves, Walking on Sunshine, il nostro Cristal History, qui su Cristal Radio, Good Morning Milano, sono le 8.09, ed è arrivato il nostro ospite di giornata, Alessandro Burbank, buongiorno Alessandro, buongiorno, buongiorno, grazie, allora, poeta, così mi hanno detto, però mi sembra di sì, ho anche ascoltato delle cose interessanti, food poetry però, perché ha a che fare con il cibo, ma, cos'è, Beatrice questa mattina ti ha chiesto, cosa mettere nella diascalia sotto pancia, cosa gli hai chiesto, cosa gli hai detto di mettere tu invece? Poeta e buongustaio, giusto? Perfetto. Ok, va bene, perfetto, allora Alessandro, devi spiegarci un po', perché qui non ci sto capendo niente, quindi non ho capito se io devo mangiare con te, oppure godermi le tue poesie, non ci sto capendo niente, dammi una mano tu per favore. Allora, il mio è un punto di vista sul cibo molto personale, perché gestisco il mio rapporto con il cibo attraverso la poesia. Questo poi ha anche, per fortuna, dei risvolti anche altruistici, e cioè il fatto che poi io vado nei ristoranti, assaggio delle pietanze particolari, scrivo delle poesie e quindi informo anche le persone che possano andarci e fare la loro esperienza. Però di base, io nasco come poeta e ho sempre avuto un rapporto con il cibo bizzarro, quindi cerco di comunicarlo e anche di affrontarlo al contempo. Nella tua bio di Instagram c'è scritto che parlare di cibo è come ballare di letteratura. Questo è interessante. Sì, è una citazione di Frank Zappa che ho fatto mia. Parlare di musica è come ballare di architettura. È un po' una risposta a tutti i vari critici sapientoni dell'epoca. e vivendo noi in un'epoca di leoni da tastiera ce ne sono tanti di finti intenditori di poesia che magari possono venire o di cibo o sai quelli che discutono sulle origini della carbonara o che sperano che il vero poeta sia Montale, Ungaretti, quindi uno non possa esprimersi su Instagram. Invece io ho scelto di fare una cosa, ma di recente anche insomma molto naturale cioè quella di abbinare poesia e cibo le mie due croci e delizie. Perché infatti tu in realtà la poesia ce l'hai sempre avuta nella tua vita il cibo anche diciamo e da poco che invece hai voluto unire due cose. Esatto, ho sempre fatto poesia con all'interno delle poesie moltissimi riferimenti al cibo perché la mia nasce come una poesia comica non solo diciamo tragicomica il termine giusto che magari nasconde come chiunque ha avuto dei problemi con il cibo la propria fisicità con la simpatia è sempre chi è in ascolto magari e ha questo tipo di problemi lo sa che cos'è relazionarsi pubblicamente quando hai delle insicurezze anche legate al cibo e sì quindi per me la poesia è il modo con cui esco dal personaggio per ricalarmi in un altro personaggio faccio questa cosa di vasi comunicanti questo switch quasi anzi allora Alessandro io ti chiedo rimani qui con noi perché adesso ci ascoltiamo una canzone ma poi voglio sentire anche una di queste poesie quindi preparatene una va bene ci dai una pronta da spararci così per fare colazione a questo punto mi sarebbe da dire va bene andiamo con Harry Styles e poi torniamo qui insieme ad Alessandro Burbank Harry Styles as it was 8 e 15 minuti Christian Radio Good Morning Milano qui con Alessandro Burbank che trovate su Instagram con il profilo Burbank underscore poetry giusto Alessandro? è quello corretto? giustissimo dove trovate appunto questi video la tua bio come ricordiamo la tua bio dice parlare di cibo è come ballare di letteratura poeta e buongustaio è la scalia che ha voluto quest'oggi nel sottopance della nostra trasmissione posso aggiungere anche paraculo io un po' non posso si può fare si può aggiungere perché ho visto dei video e hai capito cioè tu sei lì bello spacciotto che ti mani la roba bello nel ristorante tranquillo e ci decanti la tua poesia però insomma devo dire che hai trovato proprio la giusta sintesi crasi dei due mondi però appunto io non voglio sentire una di queste poesie non so se adesso dopo aver dato il paraculo non so se hai ancora voglia di stare qui con noi però nel senso spero assolutamente di più di più e allora dai leggicene una decantacene una allora questa è una poesia che parla dell'importanza di dare il nome alle cose e si intitola dare nome dare nome ho preso i ravioli ho messo i ravioli ho spento i ravioli ho detto ai ravioli e adesso ravioli e loro lì ravioli mi sentite ravioli? e loro lì ravioli guardo i ravioli contemplo i ravioli tossisco e i ravioli sempre lì ravioli scusate ravioli in silenzio ravioli ma che modi ravioli di stare lì ravioli fermi lì ravioli mentre parlo ravioli vi guardo ravioli mi accorgo ravioli che siete agnolotti ciao agnolotti ciao caro grazie Alessandro Burbank capite cioè che non potete non seguirlo cioè io ho un nuovo mito nella poesia mondiale da questo istante quindi ve lo dico adesso non ti avrò ancora messo il follow apposta perché lo volevo mettere nell'istante in cui mi innamoravo di te e lo farò in questo istante quindi adesso insomma però ci fa capire davvero come in realtà oltre alla dicevi giustamente prima comicità un po' della cosa però c'è anche insomma come dicevo una volta far ridere ma anche riflettere giusto è un po' così come tu poesia da sempre mi dicevi Alessandro e poi e cibo anche appunto mi interessa molto questa cosa che però hai unito i due mondi e come sta andando questa unione e quanto ti fa bene questa unione allora parto dall'ultima domanda perché mi fa molto bene ma soprattutto mi fa molto bene aver trovato come dicevi tu una sintesi una crasi perché ho provato tanto tempo a un po' rinunciare ad entrambe le parti perché non sapevo bene insomma ho dovuto scoprirmi io per anni facevo l'apertura dei concerti dei musicisti per esempio che è un modo di ficcare la poesia da qualche parte perché la poesia è un po' l'arte meno consumata in questo mondo capitalistico insomma e quindi la poesia un po' si appioppa nelle varie altre arti e da quando invece il cibo ha preso un certo protagonismo e mi sono fatto coraggio e ho unito la poesia con il cibo ho provato a fare qualunque cosa negli anni tra cui poesia e arti visive poesia performance poesia giornalaio sotto casa cioè qualunque altra tipologia di abbinamento e questa qui invece mi gratifica parecchio però andava trovata una ricetta ok e la ricetta ovviamente e mai ricetta fu parola più adatta in questo caso assolutamente e infatti la ricetta era la cosa più semplice semplicemente mangiare e dire questo è sostanzialmente ma viene solo dal mangiare o anche dall'osservare il cibo le tue le tue poesie qui ad esempio qui non siamo arrivati ancora no in quella che c'è letto tra dei ravioli che poi diventano si scoprono in realtà per quello che sono la loro vera stenza quella dell'agnolotto non li abbiamo ancora dentati però assolutamente infatti la poesia dice proprio quello che chiedi tu deriva dal guardare dall'osservare e dall'ascolto l'ascolto è la tecnica fondamentale che c'è sotto la vera poesia ascoltarsi ascoltare esternamente una cultura quella dell'ascolto che è sempre più difficile da praticare con sai un po' si dice il narcisismo di massa che provocano i social però è anche giusto secondo me dedicarsi alla poesia e attraverso la poesia ritrovare l'ascolto delle cose questo è un po' il messaggio che secondo me un poeta oggi può dare in un mondo materialista perfetto allora io ti chiedo di rimanere ancora un attimino qui con noi ancora una canzone poi torniamo perché insomma ci sono altre cose interessanti che voglio sapere del tuo operato come ad esempio questa cosa che fai delle scatole del tempo praticamente cioè prendi del cibo lo metti sotto non sotto formalina sotto come si chiama resina sotto resina e poi chissà chi la troverà queste scatole a fra poco ancora con Alessandro Burbank e questa era Shakira con Soltera alle 8 e 25 minuti Crystal Radio con Alessandro Burbank qui a Good Morning Milano Alessandro tu appunto poesia e cibo cibo e poesia ma ogni cibo e ogni luogo legato al cibo sono buoni per una poesia? assolutamente sì il punto è delle volte all'inizio costringersi quindi poi abituarsi affinché a un certo punto ogni cosa ogni gesto ogni momento anche una battuta del cameriere o qualcosa di fuori posto può diventare la scintilla per una poesia perché l'ispirazione va allenata io ho sempre telefono con le mie note e mi sono allenato a scrivere qualunque cosa che poi possa evolvere in una poesia ovviamente io non credo nella poesia o non credo sempre nella poesia come dire espressa ma qualche nota qualcosa che poi possa scaturire poesia quello sì devo pensare che però anche il cibo stesso influenza il risultato della poesia cioè non potremmo mai fare una poesia allegra spensierata sui broccoletti ad esempio cioè lì è una tragedia una cosa tragica sui broccoletti sì assolutamente sì i broccoletti sono buonissimi per me la tragedia più assoluta c'era peggio del macbeth c'è una cosa che non può no ma i broccoletti di bruxelles sono delle caramelle naturali io te li consiglio veramente perché hanno una dolcezza tutta loro quest'estate vedevo che la mattina mi svegliavo anche prestissimo per prendere i fichi era pieno di fico e prima di me si svegliavano i caprioli e quindi non trovavo tutti gli alberi sfogli e mi sono detto ma questi per loro sono dei negozi di caramelle e quindi ti consiglio di provare magari se non ti piacciono certi tipi di verdure perché anche a me mi piace di più mangiarmi una bistecca o tipo in altre maniere ma il cavoletto di bruxelles raggiunge quelle vette lì può essere la port la killer application delle verdure allora benissimo ok allora Alessandro rimani qua con noi canzoni due consigli per gli acquisti poi torniamo perché appunto scatole con dentro del cibo resina epossidica e poi il tempo fa il suo dovere giusto? più o meno e allora ne parliamo subito dopo qui con noi con Alessandro Burbank Cristal Radio Good Morning Milano Ciao Laura Pausini ciao Laura Pausini che saluto sempre che io voglio sempre ricordarvi di quanto io vorrei essere amico di Laura Pausini lo dico sempre l'importante Laura te l'ho detto mille volte che quando si usciamo e andiamo a Carocca non cantiamo le tue canzoni perché non mi piacciono le tue canzoni però io vorrei tanto tanto essere amico tu invece perché mi sarebbe simpatico come persona e dico in più dovresti apprezzare questa cosa adesso che io non ti voglio in quanto io non ti voglio in quanto Laura Pausini cantante non voglio l'amica famosa no vorrei essere amico tuo perché sei simpatica per quello quindi dovreste apprezzare dovreste apprezzare e apprezziamo molto anche le poesie e vorrei essere amico suo e spero di diventarlo con Alessandro Burbank che è collegato con noi Alessandro ancora buongiorno buongiorno di nuovo poesie cibo poesie ne abbiamo parlato nella prima parte se volete su goodmorning.milano.it potete andarvi a ripescare tutto quello che siamo detti nella prima parte dell'intervista ma adesso invece voglio capire com'è che dal mangiare allo scrivere poesia all'unire le due cose a un certo punto sei finito al prendere alcuni cibi che tra prendesi cucini tu credo a quel punto giusto? Sì ok che cucini tu e le metti in dei tupperware alla fine diciamo li riempi di resina e poi che cosa ne fai? ma soprattutto perché? cosa ne fai e perché? Allora creo dei tesori dei tesori ok giro per la città lasciando pochissimi indizi su dove sono li riempio con delle cose un po' bizzarre non del tutto preziose ma anche preziose da un certo punto di vista e poi invito le persone ad andarli a cercare tutto nasce che comunque da una necessità atavica di divulgare la poesia quello è sempre alla base di tutto perché mi piacerebbe che molte più persone si intendessero e parlassero e discutessero leggessero poesia e infatti all'interno di questi tesori sono nascoste anche delle poesie magari in un tacquino o comunque quello che io dico per parlare di questo tesoro è qualcosa di poetico è un'azione poetica secondo me quella del tesoro soprattutto perché la sensibilità oggi che non è la sensibilità spicciola ma la sensibilità vera passa anche attraverso la poesia e spesso si tende a declassare un po' la poesia in favore di qualcosa di più forte di più di impatto ma invece secondo me io la teoria di Rambo la vuoi sentire? la teoria di Rambo si se volete vedere sono curioso a questo punto Rambo perché era sia fortissimo una macchina da guerra però era anche sensibile con una corda di violino quindi il mio approccio alla sensibilità è lo stesso di Rambo cioè cazzo io sono sensibile ti prendo e ti spiego le cose capito in che senso sono guerrescamente sensibile chiaro chiaro della propria intimità del proprio personale perché Rambo voleva difendere in qualche modo qualcosa che lui aveva dentro di fragilissimo e lo faceva con un mitraglione ecco questo lo fanno anche i pirati secondo me ah tu dici sei un po' un po' piratesco nel tuo compiere il poeta e il pirata sono due parole che si assomigliano anche in qualche maniera e secondo me hanno la stessa radice in qualche maniera perché comunque chi vive da poeta sa che in qualche maniera vive anche da pirata della società quindi nascondere il tesoro è diventato quasi un un po' così di automatico si anche perché appunto nascondi poi in tua casa appunto nascondi questi tesori poi per scrivere le tue poesie c'è poco da fare saccheggi la realtà intorno a te cioè nel senso vai all'arembaggio di quello che tu vedi no? esatto vedi che come calza tutto bene in questa metafora quando succede vuol dire che è vero ecco eh sì giusto se funziona vuol dire che è così Alessandro poi adesso Forionna stava parlando anche che insomma la scena poetica e di poetry è molto ben fornita soprattutto in questo periodo uno magari non ci penserebbe non lo direbbe direbbe è tutto trap e invece non è così eh no eh no io guarda ho iniziato a 18 anni adesso ne ho 36 pensavo 19 pensavo eh? ho iniziato a 18 anni adesso a 19 anni cosa fai? no invece no qualcuno in più ok 19 anni dopo no e come dire ho iniziato a leggere le mie poesie durante i poetry slam e fino a pochi anni fa li frequentavo assiduamente quindi ho visto crescere una scena che adesso eh in ogni città italiana grazie anche alla Lips Leghe Italiana Poetry Slam è presente cioè tutte le sere così come per un per i concerti rap eh tutte le sere c'è un poetry slam in Italia quindi le persone sanno dove poter andare a iniziare questo percorso per esempio ed è interessante come la scena appunto non è solo localizzata a questo punto ma veramente ormai in tutta l'Italia come ci dicevi anche grazie appunto che c'è anche tanto di Lega quindi insomma è ben è ben fatta Alessandro allora io ti ringrazio davvero è stato molto interessante prima di salutarti però devo farti una domanda che mi ha chiesto la relazione di farti qual è il tuo cibo preferito perché sono curioso poi di capire cosa ne è uscito fuori da quella roba lì credo tutte macchinose quelle due le lare te lo dico questa è la classica domanda a Brucio e Pelo meno male che non mi avete chiesto il mio libro preferito perché sarei stato qui a pensare un po' troppo non è il massimo però io ti dico subito all'istante la pasta e fagioli come la faceva la nonna soprattutto te scaldata del giorno prima impegnativa mi viene da dire nel senso una passione impegnativa diciamo così Alessandro grazie mille davvero è stato un piacere conoscerti spero di risenterti presto se passi dalle parti di Milano lo studio è qui vicino allo stadio quindi ti aspettiamo benissimo che bello grazie gentilissimo infatti è un lavoro mattutino pazzesco siete dei grandi grazie mille davvero ad Alessandro Burbank alle sue poesie alla colazione che ha imbastito qui con noi oggi di solito dico menù della giornata infatti oggi anche qui non c'era parola più adatta che dire che insomma il menù di Good Morning vi ha dato anche Alessandro Burbank grazie mille Alessandro buona giornata goccia eh goccia goccia qua sta venendo giù il diluvio universale invece lo dicono tutti quelli che sono usciti oggi al 331 7853 555 non sto neanche a leggerveli tutti perché sono tutti uguali i messaggi il messaggio di Daniela il messaggio di Luca Marco Mario e Luisa ok sì e tutti e quattro ci dicono la stessa cosa acqua 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 catinelle e quindi insomma state un po' all'occhio leggo su Repubblica Milano notizia che mi ha palleggiato abbiamo avuto Alessandro Burbank che è di Torino quindi spesso lo interviene a Milano ho pensato ai fuorisede ho trovato infatti questa notizia proprio che parla dei fuorisede a Milano vita da fuorisede a Milano per vivere cinque anni in città uno studente spende oltre 82 mila euro lo rileva l'osservatorio sul costo dell'educazione in Italia di Money Farm che registra un aumento della spesa del 2,14% rispetto al 2023 a scendere nel dettaglio delle spese a sostenere per vivere da studenti fuorisede a Milano è appunto Money Farm che questa volta con una stima delle diverse voci di spesa delle tasse universitarie quelle per il tempo libero ci sono circa 5.000 euro necessari per l'affitto di una stanza più o meno circa 9.000 euro stimando una spesa media giornaliere di 30 euro per gli acquisti alimentari attività ricreative socialità trasporti spese una tantum e quindi capite che la cifra veramente esorbita alla grande aggiungiamo poi le spese per le tasse universitarie che a seconda delle fasce ISE va da 950 euro più o meno a 3.400 euro più o meno e quindi fate il conto che arriviamo a 15-17.000 per le tasse per i 5 anni 75.000 arriviamo tranquillamente alla fine ad avere più di 80.000 euro in media anzi sulle fasce basse per chi viene a vivere 5 anni a Milano per studiare in questa città insomma alla faccia della Milano accogliente e della Milano universitaria che appunto come ripetiamo sempre non è dovrebbe essere una città universitaria ma non è una città universitaria non risulta essere una città universitaria nonostante il grandissimo numero di studenti universitari in questa città e il grandissimo numero anche di atenei e di facoltà disponibili che appunto rendono attrattiva poi la città poi una volta che vieni qua scopri che insomma non è proprio tutto così non è tutto rosa e fiori sembrerebbe e quindi insomma non è così così semplice vivere in questa città non è così semplice stare in una città come questa qua dove è tutto un po' complicato abbiamo letto adesso parliamo di fuorisede ma non è che gli altri per altri siamo più semplici c'è lo stesso identico problema per gli autisti TM ad esempio TM non trova gli autisti perché? perché la città costa troppo perché la città è veramente difficile perché la città è quella città che è complicatissima da gestire e da vivere quindi gli stipendi non sono parametrati al grandissimo e elevato costo della vita ma insomma è una storia che vi abbiamo già raccontato tante volte che insomma non vorrei stare qua a raccontarvi oggi in una giornata di delirio come quella di oggi dove davvero tantissima pioggia attenzione lontani da sottopassi lontani da ogni situazione di pericolo perché è davvero davvero pericoloso essere oggi in città quindi attenzione state attenti attenti alla guida attenti appunto a girare per la città questa è Cristal Radio questo è Good Morning Milano ancora una canzone poi torniamo qui con i saluti finali alle 8 e 50 minuti qui su Cristal Radio Good Morning Milano sempre qui con voi 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano di oggi martedì 8 ottobre giornata complicata vi facciamo gli auguri quello che ci vuole un in bocca al lupo per questa mattinata fateci sapere come va comunque al 331 7853 555 perché oggi ci sarà anche K-Day quindi insomma potete raccontare tutto quello che succede nella trasmissione appunto nella puntata di oggi di K-Day come sempre in diretta dalle 10 a mezzogiorno qui su Cristal Radio ma dopo di noi dopo il giornale radio alle 9.05 e Ambrogio Curti con senti questa la grande musica raccontata dal bravissimo Ambrogio Curti se invece volete riascoltare quello che ci siamo detti con Alessandro Burbank o magari volete andare a ritrovare qualche pezzo e questa settimana vi siete persi c'è il nostro sito goodmorning.milano.it c'è tutto e poi c'è anche il podcast sia su Spotify che su Apple Music e poi c'è Instagram e poi c'è Facebook e poi c'è TikTok e poi c'è quell'altro no non ce l'ho Tinder quello non l'abbiamo ancora fatto adesso vediamo adesso parlo con la redazione e vediamo facciamo anche quello nel caso se serve se serve facciamo anche quello le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Alessandro Burbank e Fabio Ranfi qui al microfono in regia Ginevra e Beatrice grazie a tutti buon weekend no non è vero è solo martedì c'è ancora tutta la settimana ciao domani grazie a tutti